Buongiorno a tutti ragazzi, mio nome è Carmelo Lombardo e oggi farò un video su un vlog sarebbe in cui vi farò vedere, no vi farò vedere, vi annuncerò due serie che voglio aprire che saranno le recensioni sui giochi, una serie in cui farò delle recensioni su alcuni giochi e poi ho la batteria scarica, una recensione sui giochi e poi il canale ufficiale di Minecraft non so se farvi Minecraft, quello là sul telefono o quello là sul play ma io vorrei di certo farvelo sul computer, ma io Minecraft per adesso non ce l'ho sul computer quindi quando mi scarico, come dire, Minecraft sul computer vi farò vedere tutto, vediamo ma poi che io Minecraft sul computer me lo scaricarò soltanto quando avevo il computer quello là nuovo, nuovo di zecca, cioè quello là con, come dire, babboche e video li farò poi dopo i 10k che mi compri il nuovo computer che metterò nella mia stanza dopo i 10k farò video senza, come dire, senza la cosa però poi tanto questi video, come dire, saranno messi nel telefono e è arrivato mio padre, quindi dovevi andare a mangiare quindi il resto ve lo dico in un altro video quindi ci vediamo al prossimo video video